Salute cari, ho diav, biciclante alla università mi fai un accidente, e ora mi faccio molto bene, e ora mi avevo molto a dire, non è grave, ma sì. Ora mi restiamo con noi e io continuo alla comodità, alla comodità. Salute cari e buon venuto alla nuova Semenhoffa Medito. Odiò, mi leggo il tiro, il Gazetta Articolo della Esperantista, in la Iaro 1893, la titolo è Prospecto, e la lingua è ancora un'altra nuova, e mi leggo il pagio 602. Segue ciui personoi, ciui in principio approbas la ideon del lingvo tutt mondo, e ciui povas gii ne approbi, ne povas iam havi, ian, alian, standardon extralinguo esperanto. Ciel ciu novi deo ni afferodevas ancora malfazzile battali con la indiferentezo della mondo, sed nia estuntezo estas certa, cae niai esperoi estas sendubai. Do, ciem mi leggis citiui in vorto in ciu estas plenai da esperoi. Do, mi pensis pri la rilato interlinguo neutrale homa, linguo internazia, cae linguo tutt mondo. cae la principio della ideo havi tutt mondan linguon ne recte implizas la ideon de neutrale homa, linguo comprenemble. Cae... Do, c'è quale mi vidas che homoi negletas cio ocasis en la disvolvigio de la esperanto fenomeno, Do, ne nurde la mu vado. En... E diru la moderna periodo do post la 2 mon milito. Non tempe multa... multa attento estas directata al... la... la sintezo de esperanto, cae... Aperis ancao libro en la itala. La lingua neutrale de Camilla Peruc, cium... Estas temas pri... Historis... Historis... Historistino... Ia... e la Università di Venezia. Il libro è molto interessante. La aula foto, la aula figuri, la foto, la foto, l'esempio, anche un altro foto. Sono bellissimi foto. Ma, se tutti leggono il libro, ma io ricordo che tutti avevano l'impressione che dopo il clopo di l'esperienza officiale in la Liga delle Nazioni nel anno 1921, è in questo caso. Ecco, e ho visto la tendenza di questo tempo, considero speranza, interessano, pazienti, il clopo di cui ne più aveva relato con la non tempo. fare dei faculoi, perché questo è una tendenza che mi sono iniziato. quindi, più e più ci sono questi storici che interessano per l'esperanza. Questo è un buon lavoro, perché possono raccontare l'esperanza fenomeno con altri aspetti della vita, e anche più di più, e più di più di più di linguistiche, occupi già spria speranto credo anizias malpli ai malpli prì la effettiva uso della lingua che ti ho anche o estas tendenzo chiun mi ne sciattas bene mi dirò salvi ciumi fartos più buone jazzo vivono e facce la scelta che poi c'è ness ne ne ho grava ciò to ne ne sorgutro mi provivo siel cia do dancon provia attento di smorca o che siel cia mantau in sen fine grazie a tutti